Esiste il fare informazione ed esiste il fare notizia. Fare informazione è narrare, descrivere, raccontare quanto stia accadendo con dati realistici e che non destino preoccupazioni inutili, allarmismi che già sono nell'aria in un periodo critico come quello che stiamo attraversando. Fare notizia è impostare tutto sui numeri, a volte inventati, cannibalizzando le informazioni ottenute da ganci accondiscendenti e sparando novità sulle identità dei nuovi contagiati, violando addirittura quelli che sono dati segreti e che neanche andrebbero diffusi, a volte rubando informazioni destinati a rivelarsi poi finte. Noi di TSN siamo per l'informazione quella corretta e ci pregiamo di esserci scusati pubblicamente nel momento in cui ci siamo trovati a diffondere dati non attendibili perché vogliamo informare e non stupire o allarmare chi ci segue. Ma una cosa lasciatecela dire, negli ultimi giorni e da quando il covid-19 si è affacciato nella nostra provincia, come era prevedibile che accadesse, abbiamo assistito ad alcuni casi di poca trasparenza, di episodi di vera e propria omertà da parte di alcuni enti che avrebbero invece la funzione di tenere aggiornati gli utenti. Sia chiaro, tenere aggiornati e non allarmare chi merita, come noi tutti, di essere informati. I giornalisti hanno l'arduo e delicato compito di essere intermediari tra l'evento e la popolazione, ma devono poter essere in grado di farlo e farlo nel modo più corretto possibile. Pensiamo a quanto sta accadendo presso l'ospedale di Sondalo, ad esempio, dove è stato allestito un centro per la terapia sui casi di coronavirus, ma del quale ancora attendiamo una comunicazione ufficiale da parte dei vertici della sanità della provincia. Perché sarebbe giusto e lecito rendere partecipi gli abitanti di questa meravigliosa provincia nella quale troppo spesso troppe cose non vengono dette. Noi ci siamo e ci saremo sempre per poter diffondere un'informazione libera da vincoli e da lacciuoli che possano deviare quello che per noi è un bisogno di informare, ma chiediamo alle istituzioni di collaborare.